Allora, prendete un chilo e mezzo di cozze, pulitele, un piattino di pomodoro e poi un ciuffo di prezzemolo, due spicchi d'aglio e un po' di peperoncino. In un gran petolone mettete il fondo d'olio, aggiungere poi l'aglio che inizierà a soffriggere e il peperoncino, bastano due pezzettini. Quando l'aglio è inviodito, versate il pomodoro e abbassate la fiamma, cuocete per circa cinque minuti. Ora aggiungiamo le cozze, successivamente le prezzemolo e copriamo finché le cozze. non saranno aperte. Nel piatto di portata metterete delle fette di pane biscottate, aggiungete un po' di brodo di cozze sul fondo del piatto e poi le cozze, almeno un paio di mestoli per ogni commensale. servite ben caldo e buon appetito! Grazie! 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 Grazie!